Bassano, strada Santa Croce, chiude il traffico un'ora al giorno per garantire la sicurezza agli studenti della materna e della primaria Canova. In via sperimentale si parte il 24 settembre. Per due mesi auto off limits, dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 8.20 e dalle 12.15 alle 12.45. Negli orari stabiliti dall'ordinanza firmata dal sindaco Poletto, i veicoli che proverranno da Ovest lungo via Rosmini non potranno più svoltare a destra in strada Santa Croce, ma dovranno proseguire a usare il parcheggio della farmacia comunale, ad oggi poco sfruttato. Questo dovrebbe riuscire a alleggerire in buona misura quel pezzo di strada e piazzale tra le due scuole che alle 8 del mattino, mezzogiorno e mezzo, quando c'è l'ingresso di città della scuola, vede un traffico molto ingente con manovre di mezzi, anche con un po' di confusione che rende poco sicuro il luogo e anche non invoglia i genitori a mandare ai ragazzi, quelli un po' più grandi, a scuola da soli o a piedi in bicicletta perché effettivamente poi quando si arriva lì si ha l'impressione che sia una situazione che sfuga di controllo. Dal parcheggio della farmacia comunale c'è un tratto che è esclusivamente pedonale che con qualche decina di metri fa raggiungere la scuola Canova e siamo convinti che per la maggior parte dei ragazzini, quelli che sono più grandi i celli si possa tranquillamente farli scendere dall'auto a parcheggio delle farmacia comunali e poi in autonomia possono avviarsi a piedi perché è un percorso che è soltanto pedonale.